Ben trovati da TG della mobilità nell'area di San Pietro e via da domani, il cantiere e la chiusura di piazza Pia, saranno cambiati i percorsi delle linee di bus 23, 40, 62, 280, 982, N3D, N3S in concomitanza con una nuova variazione degli schemi di circolazione del traffico nelle strade vicine, intanto è cambiato il senso di marcia in via Duilio, via Tiglio Regolo, via Fabio Massimo, via Terenzio e via Virgilio e prosegue la manutenzione dei binari tramviari in via Lecarlo Felice e via Emanuele Filiberto, deviate le linee 3 navetta 51, 218, 360, 590, NMA e N3D. È tutto dal TG della mobilità. Grazie a tutti!